C'è un gettone nascosto dei Future Star in cui praticamente se voi fate oro 2 nei premi vi danno questo gettone che aiunga il giocatore, dovete fare oro 3, no oro 2 scusate, oro 3, in Squad Battles per avere questo gettone in cambio. Ovviamente avete una settimana di tempo per farlo quindi non vi preoccupate, non lo avete perso ecco.